Un protocollo di intesa sottoscritto dal sindaco di Ravenna, Michele De Pascale, e dal ministro delle politiche agricole, Maurizio Martina, garantirà la riqualificazione della Pialassa Baiona. L'accordo prevede 5 milioni di euro provenienti da fondi europei per la pesca e destinerà oltre un milione di euro per il risanamento del mercato del pesce di Marina di Ravenna. Dalla regione arriveranno ulteriori 200 mila euro, che andranno ad aumentare il plafond. Con i fondi sarà inoltre possibile ristanare la Pialassa da capanne ormai in disuso, ripulendola da rifiuti che ancora oggi continuano ad infestarla e destinandola al turismo naturalistico. Un progetto a cui il sindaco sta lavorando da un anno e a cui guardano con attenzione e speranza i frequentatori della Pialassa e le associazioni ambientaliste.